sapete sarebbe fighissimo fare un profumo, io ci ho pensato un sacco di volte, anche scherzando ma anche davvero il profumo l'acqua di palle di Lion, ma che dici una cosa super, cioè la Ferragni ha fatto l'acqua e io faccio l'acqua di palle secondo me si ho capito ma non si era mai specificato che fosse palle, era sempre acqua di palle e acqua di co e acqua di co, l'acqua di co di Lion, buonissima, sarebbe bellissimo, ho letto una roba volgare eh? che dite? che fragranze ci vorrebbero dentro secondo voi? cosa ci vedete bene in quest'acqua di co? tipo fendi di cico? no, cose che esistono davvero, sennò come ce li mettiamo dentro? tipo non lo so, vi piacerebbe cocco di palle, no, vaniglia, va bene, erba, erba quale? lasagne, sgabirro, albicocca, beh, un rutto umido, very nice, puzza di piedi, palle, fragola, fiori, rose eh, cocco, cocco e sgabirro, buonissimo, torta, lampone, che erba buona eh beh, un bel profumo, scorreggia antica ah, questo è sofisticato